si racconta che in una delle loro scorrerie per la val di lago i longobardi si siano spinti fin sul pianoro detto civita qui c'era un piccolo insediamento erede di una città etrusca dal nome ancora sconosciuto e della quale non esiste più alcuna traccia monumentale i longobardi raccolsero gli abitanti della civita li portarono lontano dalle loro case e li trucidarono in un luogo chiamato da quel momento valle degli urli i pochi che riuscirono a scampare all'eccidio e i molti che abitavano le campagne circostanti terrorizzati si arroccarono così sulla rupe di fronte alla civita vivendo al principio in case scavate nel tufo vere e proprie grotte nacque così il castellum cryptarum il castello delle grotte ossia grotte di castro